Sono 571 i casi di positività riscontrate nelle ultime 24 ore, dei quali 160 a Caltanissetta non accenna a diminuire il numero dei positivi quotidiano. Sono 525 intanto i guariti, sempre un numero inferiore rispetto al numero dei nuovi positivi. I ricoverati in degenza ordinaria sono due nuovi pazienti, uno di Caltanissetta e uno proveniente da fuori provincia. Aumentano i ricoveri anche in terapia intensiva, un nuovo ricovero, un paziente di niscemi. Si conta ancora un decesso e un paziente di Serra di Falco. E dunque sono in tutto 7 i positivi ricoverati in terapia intensiva, 71 i positivi ricoverati in malattie infettive, 5.421 sono in tutto i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia.